La Chiesa è sotto shock, sta circolando il nuovo messaggio della Madonna che ci avverte su futuri probabili eventi. Analizziamo subito il messaggio. Eccolo. Non interrogatevi sul mistero della Terra che può essere sconvolta in un'ora, piché il potere supremo che veglia su di voi può operare un cambiamento radicale in un battito di ciglia. Il mondo muterà, la Chiesa si trasformerà, e ogni essere sulla Terra sarà coinvolto in un giudizio distruttivo. Le città e le nazioni subiranno un colpo improvviso, in un breve lasso di tempo, quando questi flagelli di morte, dolore e fame si abbatteranno sulla Terra. Il pianeta sarà avvolto dalle fiamme, piché il Divino è potentissimo, e la Terra è sottoposta alla sua condanna implacabile. Non intendo infondere paura con questo messaggio, ma vi esorto a prestare attenzione ai segni che si manifestano nei Cieli. Il mondo è in preda a molteplici eventi negativi, e il Signore già si sta muovendo in questo intricato scenario. Attraverso di Lui, ricevete questo avvertimento, il giudizio è alle porte. Una devastazione improvvisa giungerà quando il calice della violenza traboccherà. La sessualità distorta, la perversione e la violenza dilagano sempre più sulla Terra. Attualmente, assistiamo a numerose guerre sanguinose e rivoluzioni che si propagano in ogni angolo del globo, ma la mia maggiore preoccupazione è la gravissima violenza inflitta ai bambini in tutto il mondo. Non esiste violenza più abominevole della brutalizzazione dei più vulnerabili. Il cielo stesso lamenta, e io ribadisco, guai a voi. Il giudizio è ormai inevitabile, e non ci sono speranze né rimedi. In un'ora, Dio cambierà il destino del mondo intero. Un cataclisma improvviso si abbatterà sulla Terra. Questo costituisce il primo dei giudizi finali del Divino. Un evento così monumentale farà tremare il mondo intero, senza alcun luogo sicuro. Il creatore umilierà le città, riducendole in cenere, mentre gli abitanti della Terra saranno annientati. Al sopraggiungere di questo cataclisma, il mondo precipiterà nell'assoluto caos. Tutte le normali attività cesseranno, e il disordine regnerà sovrano in ogni nazione. Nessun esercito potrà restaurare l'ordine in mezzo a questa devastazione. Il giudizio spazzerà via anche l'economia. I ricchi saranno ridotti all'impotenza, mentre il loro denaro si tramuterà in polvere. In un istante, le loro immense fortune si dissolveranno nel nulla. Le ricchezze saranno annientate. In verità, in ogni angolo della Terra, ogni forma di gioia, piacere, felicità e delizia svanirà. Queste parole veritiere portano con sé dolore e giudizio. Mi sono state rivelate dallo Spirito Santo del Potente Altissimo. Quest'ora di devastazione cambierà tutto in un battito di ciglia, senza risparmiare nulla. Sarà un periodo di distruzione e oscurità oprimente. In mezzo a questa tremenda agitazione, risuonerà un canto, la cui melodia crescerà sempre più forte. Il panico si diffonderà ovunque, mentre il cuore degli uomini cadrà nell'angoscia a causa della paura. Dall'orizzonte, fumi neri saliranno, visibili anche da lontano. Il disordine e il caos saranno sovrani ovunque. In un'ora, il senso della vostra esistenza subirà una profonda metamorfosi. Non sarete più schiavi delle vostre tribolazioni e dei vostri problemi. Molte cose che ora considerate preziose perderanno ogni valore, perché in quell'ora tutti saranno giudicati allo stesso modo. Tutto ciò avverrà in un'ora, in un giorno già stabilito. Pertanto, pentitevi e preparatevi. Che il Divino abbia pietà di voi. Vi benedico tutti. Pace sia con voi, miei cari figli. Cosa ne pensi di questo messaggio? Secondo diverse fonti è stata la Madonna a rivelarlo. Grazie per averci seguito. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!